Le Università del Sud avranno un ruolo cruciale nel seguire tutto l'iter dell'autonomia. È molto importante per noi questo momento perché io credo che l'autonomia si debba fare, ma la dobbiamo fare nel momento in cui non andiamo a danneggiare altre regioni. Per non danneggiare le altre regioni noi dobbiamo cogliere un'occasione storica, che è quella di un'autonomia che ci permetta di fare insieme i livelli essenziali di prestazione, il fondo di perequazione e un investimento straordinario sul sud. Perché oggi per come era progettata questa autonomia andava a discapito non solo delle regioni del sud, ma anche del centro. Noi invece stiamo scrivendo un nuovo testo con un criterio anche di riparto delle risorse che vede al centro tutta l'Italia.